Testa alla Juve ma stavolta sarà campionato. Domenica alle ore 18 la Salernitana sfiderà alla Rechi Bianconeri. Sarà tutto esaurito sugli spalti mentre avrà diversi assenzi a cui far fronte in zaghi. Tra infortunati e calciatori partiti per la Coppa d'Africa infatti il tecnico piacentino non ha molte alternative. Rientrerà Fazio in difesa mentre sulla tre quarti ci sarà Candreva da valutare Boine e Martegani ieri out per un attacco influenzale. L'argentino potrebbe essere il sostituto di Castanos agendo tra Candreva e Cionà e a ridosso di Simi. In difesa Daniluk dovrebbe giocare da terzino destro a meno che in extremis non arrivi un rinforzo pronto uso dal mercato. Faraoni del Verone è un obiettivo Sopì dovrebbe tornare all'Atalanta dal Toro e poi valutare nuove destinazioni. Sabatini spera di strappare Zortea al Frosinone per Serenicola, Cremonese e Famuro. In mediana si cerca un calciatore in grado di sostituire Coulibaly. Piace dopo dell'Atalanta in attacco la priorità eccedere a buon prezzo di A. Poi si proverà ad ingaggiare un esterno e una punta centrale. Il Toro non ha ancora deciso se far partire Radonic, pupillo di Sabatini. Defrel, Pellegri, Henri, Petagna potrebbero essere fra le punte con la valigia. In partenza Bron, Sambia, Stewart mentre da valutare rezzano le posizioni di Boinen, Ochoa e Martegani.